Benvenuti in Kortebert. Kortebert è un marchio di orologi svizzero, fondato nel 1790 nel villaggio di Kortebert, nel Giura Bernese. Negli anni, l'azienda ha costruito una solida reputazione nel settore dell'orologeria grazie alla sua precisione, affidabilità e attenzione ai dettagli. Il marchio Kortebert è stato uno dei primi a introdurre la tecnologia del cronografo sul mercato, dimostrando fin da subito un interesse per l'innovazione e la ricerca di soluzioni all'avanguardia. Da allora, l'azienda ha continuato a sviluppare nuovi modelli e caratteristiche, rimanendo al passo con le ultime tendenze del settore. Una delle innovazioni più recenti di Kortebert è il sistema di avviso di riserva di carica, che consente ai proprietari di sapere quando il loro orologio ha bisogno di essere ricaricato. Questa funzione è particolarmente utile per gli amanti degli orologi automatici, che vogliono assicurarsi che il loro orologio sia sempre in perfetto stato di funzionamento. La collezione di orologi Kortebert è estremamente ampia e comprende sia modelli maschili che femminili. Tra le complicazioni disponibili ci sono cronografi, datari, fasi lunari e altro ancora. Gli orologi Kortebert sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile e pelle, e sono progettati per resistere nel tempo. Infine, va sottolineata l'importanza della tradizione e della storia del marchio Kortebert, che ha permesso all'azienda di mantenere una reputazione di eccellenza artigianale nel corso degli anni. Gli appassionati di orologeria in tutto il mondo apprezzano l'attenzione al dettaglio e la precisione che contraddistinguono gli orologi Kortebert, rendendoli un must-have per chi cerca un orologio di alta qualità e dal design elegante.